La rete genera talenti, offre nuove opportunità di condivisione, a patto che vengano declinate localmente. Michela fa la strategic planner ed è una blogger della prima ora. Il web per lei è una filosofia di vita. Tutto comincia online per finire offline. La rete non potrebbe esistere e non sarebbe così ricca se non ci fossero tutti gli appuntamenti reali, umani, dove ci si guarda in faccia e si parla di cose. Oggi scrive su Aleardi10, il suo blog personale. Volevo anche iniziare a condividere e quindi è nata l'iscrizione a diverse community, poi è nato Aleardi10. C'è di tutto, da strategia di comunicazione alla ricetta che mi viene in mente quel giorno lì per un qualsiasi motivo. Il mio condividere è frammentata in tanti pezzi dalle community di nicchia come può essere Anobi, perché sono un gran lettore, al Facebook che ormai hanno tutti, a Twitter, a FriendFeed. Quindi modi diversi di condividere, spesso con persone diverse. Ed è diventato anche un modo per cambiare totalmente il modo di vivere, nel senso che io non faccio più niente se non online, perché tanto quando non sono a casa sono su mobile, sono su un iPhone. E incontrare quindi le persone della rete fuori dalla rete. La rete aggrega talenti anche quando parliamo di innovazione sociale, come Innocentive.com, un portale dove chiunque può proporre idee di pubblica utilità da sviluppare nella vita reale. La raccolta dei talenti con la rete è semplificata. Un caso molto bello, based Stati Uniti, in realtà ci sono molte persone anche in Italia che partecipano. È una piattaforma dove tutte le grandi persone multinazionali possono postare una richiesta di aiuto per la soluzione di un problema. Quindi c'è la call to action, stiamo cercando uno sbiancante per vestiti, tanto quanto di risolvere questa formula per questa particolare ricerca contro il cancro. Un qualsiasi scienziato può partecipare. Nel momento esatto in cui riesce a trovare la soluzione c'è una ricompensa in denaro e viene svelato chi era il committente. L'ulteriore motivo per cui penso che una visione etica e sociale possa funzionare è proprio il fatto che la rete ha amplificato le dinamiche di collaborazione tra le persone. C'è stato qualcosa di socialmente utile creato per l'Abruzzo solo dai blogger online in Italia e da chi leggeva i loro siti. È piccolo però se tu riesci ad amplificare perché crei una piattaforma dove dai un obiettivo ancora più grande credo molto sia nella partecipazione numerica che nella possibilità nella massa di trovare il talento. L'America ha scoperto internet nel 92, tre anni prima del boom italiano. E se nell'informazione online gli americani hanno ancora un vantaggio temporale non esistono differenze se guardiamo all'uso della rete nei singoli contesti culturali e geografici. E non penso che loro siano 3.0 e noi 0.1. Penso che la rete si deve innestare su quella che è la cultura e la società e la storia della nazione dove c'è la rete è globale ma credo molto nelle peculiarità locali.